Lunedì 4 marzo il settore viabilità della provincia comincerà ai lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo la strada provinciale 135 ricadente nel territorio di Battipaglia. Proseguono gli interventi di messa in sicurezza e manutenzione della nostra rete viaria, ha dichiarato il presidente Michele Estrianese. Mobilità e sicurezza sono fra i diritti primari del cittadino e per questo lavoriamo quotidianamente per tutelare una mobilità sicura per le nostre comunità. Grazie